...e come si leggono da dieci anni su tutti i giornali. ...però la gente è rassegnata. Perché? Perché queste cose non provocano emozioni? ...Aber ieri sono quasi resignati, quindi non c'è nessuno che le persone realmente empfinden, perché la paura non è soltanto spendere soldi per la sicurezza, ma anche creare una mitologia della paura. ...e non è solo una mitologia, ma anche una mitologia, una storia, un'anismo azzurro. E allora noi abbiamo detto, proviamo a scrivere un romanzo divertente, che si legge in 2 ore 5 ore. ...e ha predeliggito questa mitologia della paura. ...e quindi abbiamo pensato, scrivere un libro, che è un'aggleiche, che non ha un literario ...e che è un libro che non ha un po' di litera, che non ha un po' di 2 ore 5 minuti ...e che non può leggere le 2 ore 5 minuti. E poi prendiamo la Mythologia della Amposta in un'amismo. Grazie